Mi ha insultato, mi ha picchiato, ha preso il meglio di me, mi ha derubato dei miei veri. La mente di colui che coltiva questi pensieri non sarà mai libera dal rancore. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è pace in una mente astiosa e vendicativa. L'uomo è portato a vedere un nemico in chi gli fa del male e questo male nasce dal nostro ego che ci fa reagire alle ostilità con una carica aggressiva o offensiva che si basa sulla rabbia e sulla vendetta. Chi serva rancore soffre di più e più a lungo di chi ha generato la circostanza. Cioè molto spesso gli avvenimenti ci fanno provare un disagio, ci fanno soffrire. Ma servare rancore verso chi si è comportato male con noi ci porta a elaborare questo travaglio nel tempo e farlo diventare veramente un'ombra che ci accompagna. E dunque dovremmo imparare a vedere le cose nella loro dimensione relativa e ad abbandonare i sentimenti di rancore e di vendetta.